Da tragedia in due battute di Achille Campanile, amori celebri. Personaggi, la signora F, le amiche della signora F. L'azione si svolge nella prima metà del 1300 in Avignone, dove è noto che Francesco Petrarca aveva una relazione, la signora F, da cui ebbe due figli. All'alzarsi del sipario siamo nella casa dove convivono la signora F e Petrarca. La scena rappresenta il salotto per ricevere. La signora F tiene circolo con le sue amiche, che sono venute a farle visita. Oltre la porta c'è lo studio, dove si intravede vagamente la figura del famoso poeta Curvo sulle carte. Le signore, sgranocchiando confetture, spettegolano del più e del meno. La signora F abbassa voce. Ma non sapete l'ultima che mi ha fatto quel mascalzone di Petrarca? L'altro giorno non l'ho trovato che stava scrivendo una poesia per una certa Laura. La prima signora, sfacciato. La seconda signora, che roba, il colmo. La terza signora, sporcaccione. La quarta signora, il bastone ci vorrebbe. Sipario.